musica news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio sei la fortuna dei centravanti Giancarlo oggi sicuramente vabbè oggi è andata così è toccata a me è andata bene abbiamo creato tanto nonostante non sia stata una delle migliori partite però siamo riusciti a concretizzare alla fine un paio di comunque di occasioni che erano sono state fondamentali ecco diciamo che fino a due tre mesi fa lecco si basa un po' sulla versatilità di tutti voi oggi lecco si basa su delle solide realtà tra cui i gol dei centravanti che torna ad essere molto decisivi gli strappi di danna gli assist di lisai e via 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 dicendo alla fine oggi siete stati anche solidi come squadra avete preso un tiro in porta un gol sostanzialmente su un vostro errore no ma noi siamo sempre stata una squadra che ha puntato su su tante armi sappiamo che abbiamo tanti modi per formare l'avversario e oggi l'abbiamo dimostrato ancora una volta e siamo contenti sono contento comunque per per la prestazione di tutti abbiamo fatto veramente una buona gara nonostante non sia stato il nostro solito ritmo partita ecco però siamo stati bravi a a non innervosirci a cercare comunque sempre la vittoria e oggi siamo riusciti al fotofinish come si stava oggi in campo perché tu dici che non vi siete innervositi è chiaro che la tensione ci dovesse anche essere perché all'ostresa poi quando è stato il momento di remare non si è fatto pregare giustamente e il caldo sicuramente non vi ha dato una mano magari anche essere lucidi fino agli ultimi metri no vabbè è normale un po' di un po' di nervosismo è normale quando non riesci magari a trovare le tue solite dinamiche di gioco però nel secondo tempo nonostante i primi minuti non riuscivamo a cavarne piede poi dopo l'ora 1 a 1 abbiamo cominciato di nuovo a spingere come sappiamo fare e abbiamo avuto tante occasioni poi alla fine giustamente l'abbiamo l'abbiamo buttata dentro l'abbiamo vinta allora grazie Giancarlo complimenti buon lavoro grazie a voi Amet diciamo che queste sono un po' le le giocate degli attaccanti la capacità di mettere il portiere in controtempo rendergli quel pallone impossibile ho riguardato un po' le foto quella palla ha saluto prenderla molto alta e l'ha mandata anche molto alta è scesa di fianco al palo era lì che doveva andare è un segno tutto perfetto cross perfetto e gesto tecnico che ti viene ti viene spontaneo diciamo che non è una cosa che ti prepari ecco è un gesto tecnico che ti viene quando ti viene lo fai poi dopo sperando che la palla entri e del successo così sono molto felice veramente per il gol avevi già segnato sotto la curva contro l'Inveruno era una doppietta oggi è segnato al novantesimo un gol dal peso specifico comunque di un certo rilievo esultanza anche contenuta la tua poi ti hanno praticamente buttato contro la recinzione ma è bello è giusto che sia così è giusto così i gol al novantesimo che dicono che hai vinto la partita sono sempre così un po' di uforia un po' di dai ci stava quindi guarda io sono un po' emozionato oggi perché questo gol comunque dice tante cose dice il lavoro che si fa in settimana i sacrifici che uno fa comunque senza mollare stare sul pezzo non è facile ecco quindi sono più contento per quello che che per il gol ecco sono più contento a livello personale il fatto di stare sempre sul pezzo e di ritrovarmi con un gol pesante che aiuta i miei compagni a vincere la partita quattro punti a casa base quattro punti all'obiettivo serie C stare anche un po' alla serre mese e vedere se dovrete mantenere questo filotto e quindi provare a festeggiare in casa contro la Milano City dopo ovviamente ricordiamo la settimana prossima è Sandra Borgero contro la squadra abbastanza in salute al dia della classifica ma anche comunque veramente poco e ci sta anche che siate molto pratici arrivati a questo momento sì ma in questo momento c'è il caldo bisogna mettere da conto l'ho detto in settimana quando ho fatto l'intervista che i primi caldi possono essere fastigiosi ma noi le partite nostre sono sempre finali gli altri la giocano come un finale ieri sono andato a vedere la sandra bese contro l'arco notese l'arco notese non era quella che ho visto io quando hanno giocato contro di noi quindi per noi noi dovremmo sempre stare sul pezzo se vogliamo portare questi sei punti tra Borgoro e Milano City dobbiamo stare sul pezzo e poi dopo si toglieremo delle soddisfazioni grazie Matt complimenti per il gol buon lavoro grazie mille a voi mister grosse emozioni diciamo che il lecco non magari e ci sta non è più quello bello però ha inventato una squadra nel corso del tempo e oggi l'ha dimostrato ci ha creduto l'ha voluta era una partita bloccata dove avete sbagliato tanto sembrava una di quelle partite maledette dove il pallone non vuole entrare dove Barantani fa tre almeno interventi di altissimo livello dove tutte le mezze palle vanno in favore dello Stresa trovano un gol molto bello su una palla persa da Segato poi alla fine esce Fall l'Isai fa una partita di enorme qualità segna due assist e alla fine se siete primi e anche per queste cose chiaramente a questo punto non esiste più il bello a questo punto esiste il risultato e tu lo vai a portare a casa in diverse maniere certo se fai due gol poi giochi in scioltezza sul velluto allora poi da fuori si vede anche una bella partita però il tuo obiettivo in questo momento è solo il risultato è chiaro che un gol preso così da un gran colpo anche di scienza in una partita dove tu sai che comunque devi vincere perché la vuoi chiudere perché hai volontà e può avere diversi effetti oggi secondo me ha avuto l'effetto comunque giusto perché la squadra si è incattivita magari ma dopo 6-7 minuti dopo il gol ha ricominciato a cercare il risultato e ha trovato un Barantani in giornata importante che stava per regalare allo Stresa un punto che magari se lo strappava potevi anche pensare fosse meritato grazie a Barantani però avendo fatto gol noi alla fine mi ha legittimato una mole di occasioni che secondo me se andiamo a guardare poi il tabellino sono state anche tante ed è usato il termine incattivito effettivamente per 60-50 minuti è sembrato un po' lezioso l'avete detto avete creato comunque tanto nel primo tempo potevate chiuderlo veramente lì la partita come spesso vi è capitato avete tenuto anche un po' voi in vita allo Stresa si è aiutato ma voi gli avete dato anche un po' la mano sì lezioso abbiamo fatto degli errori negli ultimi passaggi nelle chiusure sottoporta c'era anche molto caldo oggi magari una squadra che come noi in questo momento qua deve ottenere il risultato per forza può essere che non sia stata lucidissima in certe situazioni però io penso che nelle situazioni veramente importanti a parte il rigore magari c'era nel primo tempo è stato bravo anche sono stati bravi elementi dello Stresa quindi loro alla fine devono lavorare per restare in partita alla fine ci erano riusciti e quando questo succede poi passa tutto da te dalle tue qualità noi abbiamo dei colpi importanti e oggi Amet è entrato con la testa giusta e poi con la testa giusta ha fatto un gol che pesa tantissimo tra l'altro una di quelle giornate è piena di piccoli problemi che si accavallano l'un con l'altro Carboni non stava benissimo al Borghetti con problemi intestinali e varie cose eravamo tirati oggi soprattutto dietro dietro non avevamo cambi praticamente sulla linea difensiva Carboni ha avuto una contrattura a metà del primo tempo e avevamo provato in settimana a Molieri Terzino a Molieri Terzino centrale per ovviare anche a qualunque problema capitasse sulla linea dietro difensiva però era una situazione che volevo tenere proprio in estremo perché comunque Carboni è un giocatore importante che in fase difensiva anche oggi ha fatto molto bene è chiaro che quando sei così tirato rischi sempre che se poi non chiudi la partita di pagare qualche cosa alla fine comunque è andata bene anche grazie alla mentalità ripeto di chi è entrato perché comunque sia Draghetti sia Farsi è entrato molto bene erano i due over unici che avevamo in panchina oggi penso che li abbiamo sfruttati nel migliore dei modi e allora un'ultima cosa il cambio di falla evidentemente poi l'hai indovinato tu comunque hai dato alla squadra il mezzo per far male all'ostresa però diciamo che magari in quella fase ti aspetti con un lecco molto pressante il passaggio alle due punte come è capitato in altre situazioni tra cui anche la gara d'andata no perché Caponi era stanco e ci stava che uscisse e poi perché secondo me non c'era da buttarsi alla disperata a cercare il gol perché se la perdavamo era peggio il punto in questo momento della nostra classifica non andava anche accettato devi cercare di vincerla senza però snaturarti troppo e penso che un giocatore come Fai che ha quel tipo di qualità merita anche 8 o 10 minuti dopo una partita dove tutti gli altri hanno provato in tutti i modi a trovare la via del gol non ci sono riusciti lui con l'umiltà è entrato nel modo giusto e ha trovato uno dei suoi colpi questo ovviamente è una soddisfazione sua personale che però viene poi divisa con tutta la squadra perché tre punti ripeto oggi pesano tanto tanto e quando sei lì che stai arrivando insomma è ovvio che la contentezza poi diventa generale grazie mister complimenti buon lavoro con tutta la squadra con tutta la squadra con tutta la squadra